Sul tema del colore mi piacerebbe lanciare questa provocazione. Siccome il colore è un elemento relativamente facile, superficiale da utilizzare, vorrei chiedere a tutti i progettisti e quelli che si occupano di questo lavoro di usarlo invece consapevolmente, cioè facendo riferimento quando possibile alle tradizioni locali, alla verità dei materiali, all'effettiva necessità di utilizzo perché altrimenti viene utilizzato in modo improprio e qualche volta in modo anche fuori luogo. Oggi per esempio abbiamo parlato anche del LED, anche il LED è una tecnologia moderna, innovativa, interessantissima, però dà la possibilità di essere usata male, quindi vorremmo trasformare le nostre città in dei lunapark, ma in dei luoghi davvero belli.